Buonasera, shalom uvraha, pace e benedizione a tutti voi che gremite questo Tempio e grazie a Don Lino che mi ha invitato, solo che non mi ha preparato che dovevo parlare da questo altare davanti a così tante persone, non è una cosa che faccio spesso, sono abituato di solito a insegnare con 4 o 5 studenti, soprattutto a Roma, quindi questo mi spiazza un pochino, ma ugualmente intervengo volentieri su questo tema così importante, visto che il tema della misericordia è di grande attualità, c'è un giubileo della misericordia, ma lo farò dal mio punto di vista, dal punto di vista della comunità a cui appartengo, dal punto di vista di una tradizione e può anche essere che le cose che dirò non siano esattamente quello che aspettate di sentire, ma io cercherò di essere onesto, onesto con me stesso e onesto con la prospettiva che sono chiamato a vocalizzare davanti a voi questa sera. E la prima cosa, e dirò diverse cosine, voi poi farete un mosaico più completo, ma la prima cosa che voglio dire e che sarebbe davvero superfluo e un insulto alla vostra intelligenza, se venissi a dirvi una cosa molto semplice, e cioè che è un errore contrapporre la misericordia alla giustizia. Io penso che se dovessi ricordarvi questo non darei credito alla vostra intelligenza. L'amore e la giustizia non sono due valori in conflitto. E sono due valori così profondamente connessi, come cercherò di mostrare, che solo quando si capisce l'uno si comprende l'altro. E questo è un po' il rischio, se mi permettete, l'unica punta polemica che avrò in questa mia presentazione, la espongo subito, e cioè che c'è un rischio di parlare di misericordia se non c'è una prospettiva più ampia e più completa che include anche la giustizia. Questo è qualcosa di così profondamente radicato nella rivelazione ebraico-cristiana-musulmana, in tutte e tre queste grandi religioni, i valori dell'amore e della misericordia sono inscindibili dai valori della giustizia, con un termine che è anche povero rispetto agli originali in ebraico o in arabo. Comincerei con un'immagine tratta dalla tradizione rabbinica. Per i maestri rabbini del passato, del Medioevo soprattutto, Dio ha nei suoi cieli due troni. Ha il trono di Din, che è il trono della giustizia, e il trono di Rachamim, che è misericordia. E a volte si siede su un trono e a volte si siede sull'altro trono. Chi siamo noi per togliere uno dei troni di Dio? E questo è rivelato anche, è contenuto anche, nei due nomi più importanti con la quale la Bibbia, la Torah, chiama Dio. Dio non è chiamato Dio nella Bibbia, ma è chiamato in due modi. Uno è il tetragramma, cioè sono quattro lettere dell'alfabeto ebraico, che secondo la tradizione ebraica non vanno neppure pronunciate. Le posso dire però che sono. Iod e Vav ye. Quindi questo è il nome che chiamiamo tetragramma perché sono quattro lettere. Ora, questo è il primo nome. Il secondo nome è un pochino più, più soft, più... ed è un plurale, non è neppure un singolare. È il nome Elohim, che sicuramente qualcuno di voi conosce. Ora, la tradizione ebraica associa il nome, tetragramma con l'attributo della misericordia. Cioè quando compare questo nome è l'aspetto di Dio in quanto misericordia. Invece quando compare il nome Elohim è l'aspetto di Dio più orientato al giudizio e alla giustizia. e noi troviamo questi due termini usati nei primi due capitoli della Bibbia. Tutti sanno che la Bibbia comincia con la Genesi, Bereshit. E cosa raccontano i primi due capitoli della Bibbia? Tutti lo sanno, vero? Non bisogna dirlo? Cosa racconta la Bibbia in apertura? La? La creazione. Che però non è raccontata in un racconto, ma in due racconti. Il primo racconto nel capitolo 1 e il secondo. E se andiamo a vedere qual è il nome che nella Bibbia, in ebraico, si capisce, qual è il nome di Dio usato nei due racconti, vedremo che è diverso. Ma come? Dio non è Dio? Non è uno solo? Perché ci sono due racconti, non ne bastava uno? Il Dio uno crea due volte. O meglio, il racconto della creazione è già un bel mistero. Ma come? Se uno, una creazione. Non è una la creazione. Perché due? Perché due nomi di Dio. Allora, se noi andiamo a vedere, c'è un grande maestro, che è il Rav Solovejic, un grande maestro rabbino del Novecento, che ci ha fatto riflettere sul fatto che anche l'uomo creato nel primo racconto, è diverso dall'uomo creato nel secondo racconto. Non è la stessa cosa. Allora, lui l'ha chiamato Adamo primo e Adamo secondo. Allora, per sintetizzare, l'Adamo primo, quello che noi troviamo nel primo racconto della Genesi, è creato nel segno della giustizia. Infatti, se andiamo a vedere, c'è come una maestà in questo uomo, c'è un segno di maestà, un segno di grandezza, un segno di uguaglianza. Per esempio, in quel racconto si dice maschio e femmina li creò. Più chiaro di così vuol dire che nell'Adamo 1 uomo e donna sono uguali. Maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò. L'uomo immagine di Dio, la gloria dell'uomo. È vero. La maestà di Dio si trasmette alla maestà dell'uomo, ma in questo segno quasi di potenza, di regalità. E la regalità è connessa all'esercizio della giustizia. Nel mondo antico chi esercitava la giustizia? Chi giudicava? Il re. Ogni settimana la gente andava per giudicare le cause davanti al re. Adamo 1 è l'immagine di Dio ed è autosufficiente, esercita il dominio, il mondo è ai suoi piedi, lo può utilizzare come vuole. E il cosmo, il creato è cosmo, è ordine. La giustizia vuole l'ordine. La giustizia non è amante del caos. Il caos porta ingiustizia. In un certo senso qui Dio è presentato come alla terza persona. Non c'è un rapporto diretto tra l'uomo e Dio. Dio crea l'uomo e lo mette lì come suo luogotenente sul mondo, governa il mondo. Adesso andiamo a vedere il secondo racconto. Nel secondo racconto nel secondo racconto non è più Elohim ma il Dio che crea nel secondo racconto della creazione è il tetragramma e l'aspetto non della giustizia ma della misericordia. E come compare l'uomo questo Adamo secondo in questo secondo racconto? è l'uomo impastato di fango cioè l'uomo nella sua debolezza. La donna non è creata è creata da una parte dell'uomo come se ci fosse una disuguaglianza tra l'uomo e la donna. E Dio crea la donna dopo che ha constatato che l'uomo è solo altro che maestà altro che gloria solitudine sofferenza bisogno mancanza di qualcosa incompletezza insufficienza e la visione di questa creazione è tutt'altro che un ordine costituito è piuttosto un caos un movimento una dinamica un pluralismo è in questo racconto che l'uomo si rivolge a Dio non più come a un lui ma come a un tu ed è sulla scia di questo racconto che l'uomo e la donna cominciano a creare un'alleanza con Dio allora i due racconti riflettono due idee diverse di Dio e due idee diverse dell'uomo anche se sono tutte nella Bibbia anzi sono l'inizio della Bibbia questo credo sia una cosa importante perché dietro tutto questo ci sta l'idea che la dimensione della giustizia e la dimensione della misericordia sono sì diverse ma vanno tenute insieme nessuno si è mai sognato di dire né ebrei né cristiani si sono mai sognati di dire ma c'è già un racconto della creazione perché dobbiamo leggerne due se ce ne sono due è perché insegnano due verità diverse e non tocca a noi separare la bellezza di questa pluralità degli inizi del mondo un mondo che inizia sia sotto il segno della giustizia sia sotto il segno della misericordia anche se i rabbini l'hanno capito subito che se Dio avesse creato il mondo solo sotto il segno della giustizia il mondo sarebbe perito subito questo è un vecchio anche un vecchio proverbio latino che dice fiat iustizia et periat mundus se fai la giustizia il mondo finisce non è sufficiente e questo i rabbini lo hanno sempre saputo lo hanno sempre saputo prima Don Lino giustamente ricordava citando Ravasi qual è l'origine della parola giustizia in ebraico in ebraico giustizia si dice rakamim che tecnicamente non è un singolare rakamim è un plurale quindi non si dovrebbe dire la misericordia ma le misericordie e c'è anche un salmo che adesso non ricordo esattamente misericordia c'è anche in latino misericordia domini comunque anche in quel anche in quel salmo il termine è al plurale ma l'origine di questo termine è il termine rechem che vuol dire utero vuol dire è la parte più profonda che anche la parte dire permettetemi il termine più istintuale è la parte non razionale ragionale dice ragiona con la pancia o muove le viscere sono anche termini che usiamo in italiano per dire quella parte di noi che non dipende da qui ma dipende dal cuore questo è un riconoscimento dell'importanza dei sentimenti del cuore che Dio crea con tutti e due questi elementi la ragione l'ordine ma anche col cuore e con l'amore un secondo ordine di pensieri lo prendo da se andiamo avanti in un'altra pagina biblica sempre stando nella Genesi ed è la figura di Noè non so quanto siete abituati a ragionare sulla figura di Noè oppure Noè è sempre quel personaggio un po' strano dell'arca che sa ma c'è un midrash cioè una lettura ebraica dei capitoli 6-8 della Genesi dove c'è la storia di Noè c'è un midrash che mette che racconta questo quando uscì quando Noè uscì all'aperto dopo il diluvio e vide le immense rovine causate dall'acqua che aveva sovrastato la terra si mise a piangere a piangere amaramente e disse a Dio Ribonolam Signore del mondo perché non hai avuto misericordia delle tue creature tu che sei chiamato El Racun Dio misericordioso sciocco pastore gli rispose Dio adesso tu ti rivolgi a me perché non l'hai fatto quando io ti ho parlato benevolmente e ti ho detto ho visto in te un uomo giusto il più integro della tua generazione manderò sulla terra un diluvio per sterminare ogni carne fatti un'arca di legname resinoso vi ricordate questo era il comando che Dio aveva avvisato Noè che stava per mandare il diluvio e gli ha detto fatti un'arca ti ho parlato e ti ho predetto quanto sarebbe accaduto affinché tu potessi chiedere pietà per la terra ma tu appena hai udito che avresti trovato scampo sull'arca ti sei curato non ti sei curato della rovina che stava per colpire la terra e hai pensato soltanto a costruire l'arca sulla quale ti sei salvato solo ora solo ora che la terra è devastata apri la bocca per supplicare e pregare allora Noè capì di aver agito stoltamente e offrì un sacrificio per propiziarsi Dio ed espiare la propria colpa è un midrash strepitoso è probabilmente la prima volta che sentite questa interpretazione cosa sta dicendo il midrash qui Dio sta riproverando Noè che si è preoccupato sì Dio ha obbedito a Dio ha costruito l'arca ma non ha avuto misericordia nei confronti degli altri uomini destinati a morire certo Noè nella Bibbia è chiamato giusto perché ha fatto quello che Dio gli ha chiesto di fare ma niente di più ma niente di più e Noè capisce questo in questo dialogo che il midrash inventa che la fantasia rabbinica inventa perché nella Bibbia questo non c'è guardate vi ricordate invece nella Bibbia c'è che dopo il diluvio Dio fa un sacrificio scusate Noè fa un sacrificio a Dio e noi interpretiamo certo fa un sacrificio di ringraziamento si è salvato e lo ringrazia invece la tradizione rabbinica dice non ha fatto un sacrificio per ringraziare Dio ma per espiare una propria colpa quello di essere di aver pensato solo a se stesso e alla propria famiglia e non agli altri abbastanza ardito a questa interpretazione della figura di Noè non contenti di questo i rabbini dicono guardate che cosa ha fatto Abramo Abramo ha fatto una cosa diversa da Noè ecco perché Noè è giusto ma solo Abramo è padre nella fede solo Abramo è l'amico di Dio perché ha intuito che cosa Dio si aspettava da lui e l'ha fatto senza che Dio glielo chiedesse distruggerò Sodoma perché è una città piena di peccatori Abramo comincia a discutere con Dio come? vuoi distruggere Sodoma? ma sei proprio sicuro che siano tutti i peccatori? che non ci sia qualcuno possibile una grande città magari qualcuno innocente c'è tu il giudice della terra non farai giustizia il giudice della terra non farà giustizia e così comincia una trattativa con Dio sorprendente una trattativa con Dio come se fossimo in tribunale e lui dice ah c'è una pena va dai dagli lo sconto eccetera eccetera è proprio quello che Dio voleva ed è per questo la Bibbia dice a un certo punto Abramo dice di Abramo italek lefanai che significa procedi dinanzi a me lefanai dinanzi a me di Noè la Bibbia aveva detto che aveva camminato con il Signore a fianco del Signore di Abramo si dice camminare che camminava davanti cioè ne anticipava i desideri e le aspettative come un amico come un amante e non aspetta che gli si dicano le cose perché ci arriva anche lui ci arriva dal profondo ed ecco la ragione per cui la tradizione rabbinica contrappone Noè ad Abramo perché Abramo è andato l'ifnim mishurat adin cioè al di là della misura della giustizia cioè in nome della giustizia è andato al di là della giustizia il giudice di tutta la terra non farà giustizia insomma sono alcune delle considerazioni che si possono fare su questo ora faccio ancora un altro un altro passo un altro passo e lo faccio citando un'altra fonte rabbinica Midrash Tankumah che dice questo misericordia e pace questo è Aronne verità e giustizia questo è Mosè questa è la citazione e vorrei commentarvi questa citazione perché perché nell'esodo Dio non ha portato fuori gli ebrei dall'Egitto lui stesso io ho portato fuori gli ebrei dall'Egitto con l'aiuto di tre persone Mosè Aronne e la loro sorella Miriam che è l'elemento femminile trascuratissimo come se le donne non c'entrassero niente invece Miriam è chiamata profetessa come Mosè e come Aronne ma nella tradizione rabbinica diciamo i due leader non è solo Mosè c'è anche Aronne e Mosè e Aronne giocano ruoli diversi e incarnano valori diversi ma è impensabile l'esodo senza la collaborazione di Mosè e di Aronne e come è impensabile che Dio salvasse Israele dall'Egitto senza Mosè e Aronne così è impensabile che Dio governi il mondo senza giustizia e misericordia Mosè incarna verità e giustizia Aronne incarna misericordia e pace sempre questo rabbino Solovejic che vi ho citato prima definisce così questa duplice leadership in fondo tutti e due sono si possono considerare due grandi maestri Mosè e Aronne infatti nella tradizione ebraica a differenza da quella cristiana Mosè è chiamato Mosè Rabbenu cioè Mosè nostro maestro tutte le altre cose sono secondarie per i rabbini Mosè è un maestro prima di essere un condottiere o qualunque o un facitore di miracoli o chiunque ma tutti e due sono maestri solo che uno incarna la figura dice Solovejic del maestro re e l'altro incarna la figura del maestro santo Mosè maestro re Aronne maestro santo e qual è la differenza? La differenza è che Mosè dà una Torah che illumina la mente che va alla conoscenza e mette l'enfasi sull'importanza del conoscere del capire dello studiare dell'apprendere e questo si capisce a volte non è non è così facile non è per tutti quindi è una figura chiave per il Beta Midrash per la casa dello studio e insegna che cosa? La verità e uno che conosce la verità non può che applicarla e questo è l'esercizio della verità l'esercizio della giustizia c'è un profondo legame tra verità e giustizia lo sanno bene i studiosi di diritto canonico quanto è legato la conoscenza dei dogmi tutta la tradizione cristiana è piena di la verità chi non è viene giudicato è fuori ma questo è fatto non in un modo oggi diremmo dittatoriale ma in un modo paterno una famiglia il padre almeno nelle famiglie tradizionali a cui pensano questi rabbini il padre è la figura più austera è quello che dovrebbe incarnare quello che è detta la linea ma in una famiglia non c'è solo il padre ci vuole anche la madre e i due hanno compiti diversi e hanno toni di voci diversi e testimoniano valori diversi agli stessi figli e chi incarna l'altro polo il polo materno la ronne la ronne è quello che si commuove quello che ascolta è il santo quello che non comunica la testa ma va diritto al cuore quello che è attento ai sentimenti ha una comprensione viscerale rechem è la comprensione dell'utero comprensione materna ed è capace di parlare a tutti il suo posto non è il beta midrash cioè la casa dello studio ma il beta knesset la casa della preghiera perché la preghiera è connessa è per tutti e non è solo per alcuni lo studio può essere per alcuni ma la preghiera è per tutti dunque non incarna la misura della giustizia ma la misura della misericordia ecco perché quel midrash dice misericordia e pace questo è ronne verità e giustizia questo è Mosè c'è una bellissima storia in un'altra fonte nella Mishnana in Mirkeavot forse i miei veschi studenti si ricorderanno dove si dice una storia che riguarda ronne il quale il quale quando due litigavano quando due persone litigavano faceva questo andava dall'uno si metteva lì in casa sua e cominciava a dirgli ma tu non sai che cosa fa il tuo nemico in questo momento sta piangendo è disperato perché vorrebbe riconciliarsi con te e tu non lo ascolti e insisteva a dirgli queste cose finché questo diceva ma allora io so ho il cuore di pietra devo riconciliarmi poi lasciava questo andava di là ma tu non sai che cosa fa il tuo vicino il tuo nemico continua a piangere si dispera e convinceva questo alla fine i due litiganti si incontravano e si abbracciavano perché è Aronne ecco è il sacerdozio Aronne è il Kohenagadol è il grande sacerdozio e la funzione del sacerdozio nella tradizione ebraica è questo mediare e aiutare l'espiazione l'espiazione come quella di Noè che ha dovuto espiare e qui arrivo arrivo a un punto un punto delicato che anticipo nei miei punti ho ancora un po' di tempo vero? se vi annoio datemi la sveglia e qui vabbè ve la dico fra un momento lasciamo un piccolo sospanso voglio invece per andare avanti nella progressione dei maestri citarvi sempre dai Pircheavot che ho appena citato con questa storia di Aronne un detto di un grande grande maestro dell'inizio del secondo secolo che è Rabia Kivah considerato dalla tradizione rabbinica un grande santo e anche un martire perché il Talmud racconta in ben due posti in ben due luoghi come fu ucciso dai romani nella città di Cesarea nel 135 all'epoca dell'imperatore Adriano che ha lasciato cattivi ricordi di sé presso gli ebrei e fu quindi fu martirizzato ma la tradizione non guarda a questa persona a questo grande maestro come a un martire ma come a un maestro appunto come a un insegnante il quale diceva l'uomo è amato da Dio per il fatto che fu creato a sua immagine ed è amato con amore sovrabbondante diremmo con misericordia per il fatto che gli venne rivelato di essere stato creato a immagine di Dio attenzione alla finezza di questa prima parte dell'insegnamento perché noi possiamo essere immagine di Dio e non sapere di esserlo quindi c'è la grandezza dell'essere creati a immagine di Dio e c'è ancora più grandezza e c'è ancora più amore nell'averci dato coscienza di essere immagine di Dio questa è una grande finezza e poi aggiunge ancora il mondo è giudicato con misericordia e tutto è in accordo con il peso delle azioni umane ora dopo aver ricordato che l'uomo è creato di questo l'insegnamento è come un aforismo è come un detto che va tenuto insieme così come ve l'ho letto la prima parte ci ricorda che l'uomo è creato immagine di Dio e che in più abbiamo coscienza di esserlo e qui si rivela l'amore di Dio per noi in più il mondo viene giudicato ma come? con misericordia proprio per quello che ho detto prima se Dio giudicasse solo con la misura della giustizia chi si salverebbe? Chi può dire io sono un giusto io non sbaglio mai come è il proverbio il giusto sbaglia 70 volte al giorno se non è così gli assomiglia perché 70 è un numero simbolico per dire tante volte tante volte il problema non è sbagliare il problema è rendersi conto che abbiamo sbagliato e sforzarci di sbagliare il meno possibile la volta successiva ma il detto dice il mondo è giudicato con misericordia e tutto è in accordo con il peso delle azioni umane ora queste due cose a ben vedere non stanno insieme come è possibile che il mondo sia giudicato con misericordia da una parte e che però nello stesso tempo tutto è secondo il peso dalle azioni umane è una verità semplicissima che questa apparente contraddizione vuole insegnare che se l'amore o la misericordia di cui ci riempiamo la bocca porta a un minimo di deresponsabilizzazione sulle nostre azioni se toglie peso al valore delle nostre azioni è zero non è nulla non è più misericordia la misericordia ha senso nella misura in cui non deresponsabilizza anzi deve responsabilizzare questo è l'insegnamento il mondo è giudicato vuol dire che c'è un giudizio di Dio che Dio è buono nel giudizio ma che le nostre azioni contano e come e bestemmia Dio chi dice tanto Dio perdona tutto c'è un proverbio latino maledictus homo qui peccat in spe maledetto l'uomo che pecca nella speranza di essere perdonato sono parole pesanti queste e non della tradizione ebraica ma di una tradizione diversa da quella ebraica ma il senso è questo perché è una misericordia o un perdono che venissero a deresponsabilizzarci a togliere valore al peso dalle nostre azioni non sarebbe nulla non sarebbe nulla non sarebbe nulla e qui Rabbia Chiva lo dice esattamente tenendo insieme queste due cose il mondo è giudicato con misericordia e tutto è in accordo con il peso delle azioni umane l'agire umano conta e quello che Maimoni del più grande filosofo dell'ebraismo nel dodicesimo secolo chiamava la dottrina dei meriti certo che c'è la provvidenza divina ma la provvidenza divina fa conto dei nostri meriti non ignora i nostri meriti anzi vuole che accumuliamo meriti una dottrina che può piacere e non piacere ma è una dottrina che punta alla responsabilità totale e assoluta che l'uomo ha sul proprio destino e sulle proprie azioni e non ci si può appellare a Dio tanto Dio perdona quello è un modo per deresponsabilizzarci ed è questo è molto molto lontano dalla tradizione ebraica se dovessi con le mie parole riassumere il senso del perdono e della misericordia nel giudaismo direi tre parole il didatta l'insegnante tre parole la prima parola è che è la parola teshuva che vuol dire presa di coscienza che Dio vuole qualcos'altro da noi che vuole di più presa di coscienza che forse c'è qualcosa che non va in noi e allora si innesta un processo di pentimento pentimento la misericordia di Dio ha come primo ingrediente il pentimento dell'uomo questo può essere una verità ebraica che non si ama sentire ma Dio non è un distributore automatico di perdoni Dio si impegna con noi quando noi ci impegniamo con noi stessi e con Lui questo è il senso ma per fare questo bisogna attivarsi bisogna attivarsi il perdono di Dio arriva quando si comincia con la presa di coscienza di dove siamo e di dove vogliamo essere e poiché tutti siamo peccatori e questo è dottrina che il cristianesimo ha preso dall'ebreismo poiché siamo tutti peccatori anche senza bisogno che l'ebreismo non ha la dottrina del peccato originale ma questo non vuol dire che non abbia un'idea di peccato è peccato è arrivato al cristianesimo perché era già nella Bibbia era già nel giudaismo e allora tutti siamo peccatori ma come accediamo al perdono di Dio e questo è il punto secondo me un pochino Dolenz che poco si sente da Papa Francesco e dal mondo cristiano poi il dondino se io dico delle fesserie dopo lui vi ricacchettizzerà bene va bene se noi andiamo a vedere il meccanismo per uscire dalla colpa dal peccato nei testi biblici quello che i cristiani chiamano l'antico testamento e che noi chiamiamo la Torah qual è questo meccanismo per superare uno stato di peccato di è l'espiazione è l'espiazione ora questa è la parola che poco si sente che secondo me invece è al cuore è al cuore di questa concezione ebraica della misericordia cioè il peccato va espiato il perdono ebraico non è qualcosa che arriva e cancella tutto cioè hai fatto qualcosa ti perdono e come se tu non l'avessi fatto se l'hai fatto l'hai fatto se l'hai fatto nessuno lo può cancellare il grande filosofo ebreo francese Ian Clevice diceva neppure Dio può disfare una cosa che è stata fatta e questa è la serietà della storia questa è la serietà della nostra libertà se non fosse così saremo dei giocattoli saremo degli autonomi niente sarebbe serio e invece siamo seri e invece la storia è una cosa importante le nostre azioni pesano se scegliamo il bene o il male conta il perdono non viene ad abolire questa distinzione tra bene e male e se facciamo male e se vogliamo il perdono dobbiamo espiare se io faccio un torto al mio fratello dice il giudeismo non posso chiedere a Dio di essere perdonato per quello che ho fatto vado dal mio fratello riparo il mio torto e dopo averlo riparato posso sperare che Dio ritorni ad avere uno sguardo di benevolenza nei miei confronti questo insegna il giudeismo e questo dice anche il Vangelo e questo è il cristianesimo anche perché non può essere diversamente da così con un piccolo dettaglio il cristianesimo ha focalizzato non sono un teologo cristiano non oso dire niente sul cristianesimo ma che cos'è il sacrificio di Cristo se non la grande espiazione e bisogna ricordarlo questo è l'espiazione qualcuno ha pagato se non si paga non c'è perdono perché non c'è giustizia perché le due cose alla fine sono due aspetti di un unico Dio di un unico insegnamento ecco perché ho esordito dicendo non si può separare giustizia e amore e l'espiazione è parte integrante per la ricongiunzione di amore e giustizia espiazione il giorno più solenne del calendario ebraico quando digiuniamo per 25 ore che cos'è com'è chiamato il giorno dell'espiazione Yom Kippur è una cosa seria e solo alla fine dopo 25 ore di digiuno senza mangiare e senza bere possiamo sperare di essere iscritti nel libro della vita di avere ottenuto quel perdono ma qui ci congiungiamo la terza idea dopo la teshuva dopo l'espiazione il reinizio avere la forza di ricominciare perché il perdono è questo è la possibilità è la seconda chance è la possibilità che abbiamo di ricominciare sempre da capo di riprendere le nostre responsabilità e di fare meglio di come abbiamo fatto il giorno prima questo è quello che gli ebrei pensano del perdono che è una realtà fondamentale la misericordia è fondamentale ma se è disgiunta a questi momenti se è disgiunta dalla fatica che dobbiamo fare se è un perdonismo e un buonismo fino a se stesso non porta da nessuna parte perché non responsabilizza perché le nostre azioni sono svuotate del loro significato più profondo in altre parole la misericordia e il perdono esigono la giustizia e la giustizia esige di tener conto anche di quella misurata din l'ifnim misurata din quella andare al di là di quello che è semplicemente dovuto ed è lì dove la persona onesta e integra si differenzia dalla persona santa dalla persona santa non si perdona se non in luce della giustizia e di un pentimento che dà responsabilità e in più non si perdona per conto terzi non si perdona per conto terzi ciascuno di noi chiede il perdono per sé dopo avere spiato e riparato gli errori le trasgressioni verso Dio le perdonerà Dio ma gli errori e i torti che facciamo al nostro prossimo vengono espiati solo se abbiamo rimediato e abbiamo ripagato gli errori e i torti che questo la storia presenta molti problemi mi permetto non è un uno spot un consiglio per gli acquisti ma su queste su queste cose ho riflettuto a lungo insieme al mio maestro Paolo De Benedetti e ho scritto proprio abbiamo scritto insieme a due mani Giuliani De Benedetti un volumetto che non a caso porta il titolo Farsi perdonare e ho insistito su questo titolo perché c'è differenza fra perdonare e farsi perdonare il nostro compito è altri devono perdonare noi prima ancora che noi perdonare gli altri perché questo significa sapere dove siamo riconoscere la nostra debolezza la nostra fragilità ma farsi perdonare è un verbo attivo non è un verbo passivo il perdono non è che mi metto lì e qualcun altro lavora per me il perdono sono io che lo metto che gli do l'avvio sono io che mi faccio perdonare e questo la tradizione cristiana l'ha anche ben capito uno deve almeno far la fatica di andare dal confessore se non fa neanche quella fatica che cosa come può essere perdonato minimo ma dietro dietro questo capite c'è ben altro il fatto di prendere in mano la propria vita e cambiare le cose che non vanno o riparare i torti e quindi farsi perdonare il valore della teshuva il valore della teshuva che dirvi il giorno di Kippur è uno dei giorni più straordinari che un ebreo può vivere forse il giorno in cui veramente tutti gli ebrei si rendono conto di essere ebrei e c'è un momento nella liturgia nella lunga liturgia della sinagoga di Kippur che è indescrivibile e quindi non ve lo descrivo però vi dico di che cosa si tratta è il momento finale quando dopo tutte le preghiere quando il giorno sta per chiudere si suona per 36 volte lo shofar il corno di ovino di montone di ariete quello che è insomma in un silenzio perché in quel momento nessuno parla e prima avevamo cantato col adonai bashofar la voce del signore nello shofar ora lo shofar non è neanche uno strumento musicale i miei bambini studiano pianoforte violino questi sono gli strumenti musicali che bello sentire un concerto di violino una suonata di Mozart lo shofar che note escono dallo shofar eppure in quel in quel suono non suono gli ebrei sentono sentono in qualche modo la risposta di Dio a 25 ore di penitenza di digiuno di espiazione o semplicemente di reinizio è come è come se si dicesse da domani si volta pagina si ricomincia siamo fragili litighiamo col nostro compagno o la nostra compagna sgridiamo i nostri figli quando non dovremmo sgridarli facciamo tutta una serie di cose che che non sono veramente per non parlare dell'etica degli affari o delle finanze eccetera ma in quel giorno abbiamo la possibilità di dire da domani si ricomincia ho parlato male dei miei vicini dei miei colleghi di lavoro del mio capo da domani si può ricominciare perché la maldicenza nella tradizione ebraica è un gravissimo peccato ma non c'è anche un proverbio che dice ne uccide più la lingua della spada la lingua si distrugge una reputazione quindi la maldicenza per fare un esempio di trasgressione sì perché non ci sono solo i dieci comandamenti ci sono tutti gli altri che danno corpo ai dieci comandamenti tutti gli altri comandamenti torniamo per un momento alla Bibbia nel giorno di Kippur c'è la tradizione in tutte le sinagogue di leggere di leggere un libro biblico per intero chi sa dirmi cos'è qual è eccetto Don Lino che sa tutto quindi lui non conta qual è il libro biblico che si legge tutto nel giorno di Kippur il giorno dell'espiazione vabbè ve lo dico io è il libro di Giona direte bello sforzo sono quattro capitoli si leggono in venti minuti e va bene voi pensavate che chissà cosa ci vuole a leggere tutto un libro della Bibbia si legge in venti minuti sono quattro capitoli nel pomeriggio di Kippur gli ebrei leggono tutti gli anni da cima a fondo il libro e perché? perché è il libro biblico che parla della misericordia di Dio per un popolo straniero per un popolo peccatore e che cosa fa Dio davanti a questo popolo da questa città peccatrice come Sodoma e come la storia di Sodoma questa volta non è Abramo è il profeta Giona e che cosa fa Dio davanti a questa città di peccatori manda il profeta e gli dice vengo a distruggervi se non fate penitenza se non fate teshuva li distruggo Giona mica nato ieri ah sì ma io lo conosco il mio Dio il Dio di Israele questo è buono io questa missione non la voglio fare e invece di andare verso ovest si imbarca a Giaffa per andare invece di andare verso est si imbarca per andare verso ovest verso ovest la storia la sapete no? sale sulla nave arriva la tempesta tutti pregano il loro Dio la tempesta non si placa Giona dorme e lui ha detto vabbè è colpa mia lo riconosco va bene prendetemi buttatemi in mare lo buttano in mare arriva il grande pesce lo mette lo sputa fuori e quello è costretto ad andare a Ninive e a predicare il giudizio di Dio siete dei peccatori e Dio vi punisce non è andato ad annunciare la misericordia è andato ad annunciare il giudizio di Dio e i Niniviti hanno fatto penitenza e Dio nella sua misericordia non li ha distrutti è uno dei libri più perché si legge a Kippur perché gli ebrei nel giorno più sacro in cui sviluppano il rapporto intimo con Dio analizzano se stessi la propria anima fanno introspezione fanno i propositi perché leggono un libro che riguarda il popolo di Ninive che non c'entra niente col popolo ebraico perché in quel testo in quel testo è esattamente raffigurata la missione di Israele annunciare i due volti inscendibili di Dio giustizia e misericordia certo il profeta come uomo non l'ha presa benissimo perché tanto lo sapevo che questo è buono alla fine sono andato a annunciare una cosa che non si è verificata ma è lì dove la profezia ha successo quando fallisce questa profezia ha successo che ha ottenuto il suo scopo ha ottenuto la teshuva ha ottenuto il ripensamento e il nuovo inizio da parte dei Niniviti ma vi ricordate come si chiude questo libro? forse avete dimenticato se non lo leggete spesso questo libro Don Lino bisogna fargli leggere più spesso questi libri della Bibbia uno alla volta hai ragione hai ragione allora Giona nel capitolo quarto si lamenta con Dio no? perché la storia vi ricordate come va a finire lui si arrabbia con Dio e allora scappa va in questa zona assolata il sole pesante si addormenta e Dio fa crescere questo ricino questa pianta questo chi caionna si dice in ebraico che pianta era chissà certamente una pianta che aveva foglie abbastanza grandi da dare ombra dare ombra al povero Giona poi due e mio figlio l'ho chiamato Giona mio figlio si chiama Giona e quindi è un libro che mi sta molto a cuore mi sta molto a cuore e poi quando Giona si sveglia è contento di avere un minimo di rinfresco da questa pianta e dice il testo e Dio manda un verme a rodere il chi caionna e il chi caion secca allora ecco che arriva l'ultimo dialogo con Dio e Dio gli dice ma come tu ti arrabbi perché ti è morta una pianticella che ti dava un po' di ombra un po' di refrigerio e io non avrei dovuto avere pietà chesed rakamim misericordia io non avrei dovuto avere rakamim e chesed e pietà di Ninive quella grande città nella quale sono più di centoventimila persone che non sanno distinguere come lo sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra e una grande quantità e una grande quantità di animali il libro di di Giona finisce con questa domanda è un libro incompiuto è una domanda che Dio rivolge a Giona cioè che rivolge a noi chi siamo noi per giudicare chi siamo noi per condannare non per giudicare perché giudicare dobbiamo giudicare giudicare fa parte dell'uso dell'intelletto c'è differenza tra un giudizio una valutazione i gesuiti chiamavano questo il discernimento discernere dobbiamo condannare un'altra cosa e qui Dio dice a Giona e io non avrei dovuto avere pietà di questa gente che quasi gli manca il discernimento e gli animali questa fine è strepitosa è strepitosa perché ci ricorda una verità che la tradizione rabbinica ha colto immediatamente la misericordia di Dio non è solo per gli esseri umani ma per tutti gli esseri viventi mio maestro Paolo De Benedetti ha portato questa intuizione fino alle estreme conseguenze se c'è salvezza per noi c'è salvezza anche per i nostri animali io non mi spingo così lontano ma il messaggio è chiaro l'amore di Dio comincia da Israele per arrivare a tutto il mondo a tutti i popoli per arrivare anche a quelli che noi non consideriamo esseri umani ma sono esseri viventi prendo ancora qualche minuto ho ancora qualche minuto volete chiudere posso anche chiudere se no lascerei come ultime come ultimi esempi di misericordia nella tradizione ebraica qualche cioè qualche cominciamo con uno qualche aneddoto dalla tradizione cassidica voi sapete chi sono i cassidini sono questi ebrei che si sono sviluppati in movimenti in dinastie in grandi famiglie nell'Europa dell'Est a partire dalla seconda metà del diciottesimo secolo e che hanno lasciato tutta una letteratura edificante che Martin Buber ha raccolto in quel bellissimo classico del pensiero religioso del novecento che sono i racconti dei cassidiem io prendo da uno di questi e questo è molto famoso chiedo scusa se qualcuno già lo conosce ma dove qui la misericordia non è solo misericordia ma è proprio l'amore per il prossimo non dimentichiamoci non dimentichiamoci che è nel Levitico che noi che noi leggiamo Levitico che noi leggiamo il comandamento di amare il nostro prossimo e di amare lo straniero e l'espressione è la stessa diciamo il mio prossimo è il mio vicino lo straniero non è il mio vicino nella Bibbia l'espressione è identica è identica vea afta e tagher e nel Deuteronomio che è l'ultimo libro della Torah dove spesso si spiegano cose già dette nei libri precedenti no? è data anche una spiegazione e amerete lo straniero perché voi siete stati stranieri in terra d'Egitto questa è la Torah e quindi quando Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso sta citando Levitico e sta citando Deuteronomio ma in senso ampio questo amore Rabbi Moshellov narrava come bisogna amare gli uomini l'ho imparato da un contadino questi sedeva in una mescita in un'osteria con altri contadini e beveva tacque a lungo come tutti gli altri ma quando il cuore fu mosso dal vino quando il cuore fu mosso dal vino si rivolse al suo vicino dicendo ehi tu mi vuoi bere io non mi vuoi bene quello rispose ma certo che ti voglio bene e gli dissi ancora tu dici io ti voglio bene ma non sai che cosa mi affligge se tu mi volessi veramente bene lo sapresti l'altro non seppe che rispondere e anche il contadino che aveva fatto la domanda tacque come prima ma io compresi questo è l'amore per gli uomini sentire di che cosa hanno bisogno e cercare di alleviare la loro pena mi pare che sia sufficiente grazie della vostra pazienza